ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi si sono con quindi vuol dire che oggi giocheremo da vendati in sopravvivenza eccola inizio io se mi funziona sta tastiera sapete vi avevo promesso wolfie cioè cuoricino e adesso io mi vado a mettere questo hello guys allora prima di allora devo dire che lui ha trovato dynamite e io devo ancora arrivarci a dynamite guarda però mi manca poco quindi sono felice inizio a vendermi chiudo gli occhi si iniziamo terrò ovviamente gli occhi chiusi e direi che dobbiamo iniziare allora io non saprò niente ragazzi non so allora direi che devo fare così vado avanti 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 c'è qualcosa raga ha ucciso qualcosa perché sento power up raga ha più 7 vuol dire che siamo arrivati siamo arrivati siamo arrivati per noi ultimi mi chiedo come sono andata come sono andata non sei bendata non è vero e adesso gli dico dopo allora guarda il video il video iniziamo ok vediamo invece cuoricino o meglio wolfie vi dovete abituare a questo nome che cosa fa vediamo se mi segue se mi segue vuol dire raga non è molto bello affidarsi se vabbè come gli ho schivati quelli raga giuro che non mi sono mai sentita così male in vita adesso gli dico anch'io non è ribendato non è ribendato e adesso gli dico mi trolli e lo sapevo lo sapevo adesso anch'io 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 lo trollo adesso io dico adesso tutti e due tutti e due bendati ok raga c'è mi prendi in giro sto qua guarda si raga mettete dislike ma 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 qua io ti ammazzo 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 sono fuori fuori di casa fuori di casa fuori di casa fuori di casa lui Cioè, maledetto. Cosa faccio, raga? Aspetto. Aspetto. Cioè, lui... Accetto. Raga, è cretina. No, no, non volevo mettere pronto. Adesso, se mi rinvita, faccio una cosa. Che non volevo fare, ma... La, rifiuta. Eh, adesso non mi può più chiamare, quindi... Cioè, adesso devo rifare. Non fidarti di Wolfy, questo video. Scusate, raga, si è andato a male. Ma io non potevo prevedere le sue mosse. E quindi, aspetta che lo rinvito. Stai buono stavolta, stai buono? Stai buono? Cioè, dovete sapere che io e Coricino, cioè Wolfy, siamo fidanzati. Perché? Perché? Mettiti la benda! Mettiti la benda! Mettiti la benda! In realtà, noi non abbiamo una benda, però gli occhi chiusi, raga. Se dice di no, giuro che adesso me ne vado. Un attimo. Sì, sì, bene. Vediamo che ci mette due anni, poi. Raga, un attimo che forse non è pronto. Ok, adesso vediamo se è bendato. Sì. Sì, si mitrolla ancora un'altra volta. No, secondo me... Vediamo se è bendato, sì o no. Vediamo se è bendato. Ok, raga, sono morta. L'ho fatta apposta. Adesso gli faccio una meno. Gli ho fatto una meno. Così impara. No, se... Ok, bene. Risaluta. 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 Cosa... Mi sono messo il cuscino davanti. Raga, il cuscino davanti. Cosa è il cuscino davanti. Non mi sono andato. Bene, diciamo bene, bene, bene. Bene, raga. Io direi di concludere qua. Adesso... Tutti e due ci mettiamo la benda. Un attimo. Gli scriviamo. Adesso... Tutti e due bendati. Tutti e due bendati. Bene, raga. Io non... Giuro che in questa partita non vedrò niente per essere la pari. Però do una sbucciatina se... Ok, no, perfetto. Mi chiudo gli occhi e non vedo niente. Andiamo per di qua. Un po' spariamo, vediamo. Spariamo un po' a caso. Spariamo, spariamo, spariamo. Allora, sto sentendo colore non vedo niente. Non vedo niente. Allora, vogliamo un'ericione. Allora, spariamo un po' a caso. Apriamo un attimo gli occhi e non vedo niente. Ok, bene. Dove siamo, raga? Proviamo... qua. Non so. Davvero, dopo questo video credo che ci faremo risate. Apri un attimo gli occhi. Ok. Dove andiamo? Non ci vedo, papo. Raga, proviamo ad andare avanti e spariamo. Secondo me c'è qualcuno. Secondo me c'è qualcuno. ho sentito più due, più due. Non ti fa male, non ti fa male. E adesso basta. Di saluta. Ma maledetto. Vabbè, raga, questo titolo comunque lo intitolerò. Ecco. Non fidarti di wolf. E alla prossima, raga. Sigla finale e siamo a posto. Di ciao. Di ciao. Papà. Ah, mori, ciao. Mori, vedi come è? Vado a prendere un po' di bucine ruote e poi abbiamo finito e facciamo il bagno. Sì, dopo facciamo il bagno in piscina. E adesso, mori, con me o stai qua? Ehm, sto qua. Va bene. Ciao. Scusate, raga. Però di tutto, ciao.